Oggi l'Avis Comunale di Soveria Mannelli ha organizzato la terza edizione del Corri Soveria nell'ambito delle manifestazioni estive che l'amministrazione comunale organizza nel periodo estivo qui nel Comune di Soveria Mannelli. Quest'anno abbiamo arricchito la manifestazione con un piccolo spazio dedicato ai bimbi. Una mini maratona si è svolta all'interno del perimetro di Piazza Bonini, mentre la maratona tradizionale aperta ad amatori a professionisti si è svolta in un percorso di circa 3,5 km all'interno del Comune di Soveria Mannelli. Quest'anno abbiamo registrato la partecipazione di giovani e meno giovani. Importantissima è stata la presenza di una persona di 74 anni che ha corso la maratona e che abbiamo voluto ringraziare con un piccolo dono di prodotti tipici della nostra comunità. Anche quest'anno voler svolgere una manifestazione dedicata allo sport è servito per lanciare il messaggio che l'Avis propone durante tutte le attività annuali, che è quello della donazione. Donarsi è sempre e comunque un voler bene all'altro. Noi di Avis continuiamo continuamente la nostra attività, tant'è vero che nonostante le attività di contorno domenica svolgeremo la nostra quotidiana attività che è quella della raccolta sangue presso la nostra sede di Soveria Mannelli. L'organizzazione della manifestazione con Risoveria è stata possibile grazie ad un apporto importante che è quello della consulta giovani dell'Avis comunale di Soveria Mannelli e che con il loro apporto hanno consentito l'organizzazione di una manifestazione, seppur breve come tragitto, comportava l'impegno di diverse risorse umane e quindi questi ragazzi ci hanno dato la possibilità di portare a termine una importante manifestazione.